ben a tutti ragazzi sono federico e bentornati sul mio canale youtube in questo video di oggi ci sarà una prima parte in cui faccio unboxing di roba parecchio fighe comprato ultimamente e più dopo arriverà un mio amico e vi spiegheremo cosa si potrà comprare in un evento speciale si trà in una boutique qui in italia dei prodotti abbastanza limitati sono stati visti e venduti poche volte in Italia di una marca molto figa di cui vi avevo già parlato questa però si tratta di una collezione diversa poi iniziamo subito il video allora innanzitutto unboxing di Cristo oserei dire di queste scarpe sneakers guardate questo è il box friend and family guardate che roba in legno pazzesco con una carpa coi disegnata sopra il contrasto in arancio e il logo del negozio ai più dare si apre qua la scatola pazzesco dentro di stampa nelle in arancione con la scritta year of the orange coi e anche in giapponese c'è proprio stampato legno assurdo e dentro qua di primo ripiano all'interno della scatola ci sta una specie di bandana arancia e nera con tutte le carpe coi stilizzate famosissimo pesce giapponese dei lacci di riserva delle scarpe che aveva fatto a poco e poi qua ai fiume year of the orange coi dell'incenso prima volta è vinto dell'incenso in un paio di una scarpa di sneakers ma il packaging è veramente di un altro livello per questa edizione limitata è incenso pazzesco pure buona mazza e quindi questi sono i contenuti di questo primo ripiano di questa release super limitata e poi qua ci sta la scatola in sé anche questo per curata si tratta delle asics tiger in collaborazione con il negozio ai few e il negozio beams beams è un famoso negozio di tokyo e guardate la scarpa la scatola allucinante guardate che cura che accuratezza dentro apriamo ci sono degli ulteriori sorprese ovvero queste insoles quelle solette di queste gel light 3 come modello guardate che figo il disegno che si va a creare posizionano assieme le due solette allucinante ovviamente sono solette riserva che ne saranno altre due sneakers queste gel light 3 year of the orange coi eccolo qua sneaker da proprio cultori appassionati in serie la pelle è veramente allucinante e burrosissima ve lo faccio vedere più da vicino qua la pelle è veramente burrosissima tocco la pelle burrosa pannelli in suede in scamosciato arancione qua il logo asics sul lato è una pelle con una stampa tipo di pesce sembrano le scuole di un pesce qua gli occhielli sono in una stampa che lo fanno sembra di bambù altro dell'ame scamosciato logo di e più del negozio europeo e più qua e poi con scritta in giapponese che significa coi guarda del sotto la suola allucinante anche qui abbiamo come se ci fosse dell'acqua qua e traslucente ai si trasparente la parte sotto della suola tutto il tallone con delle carpe come se stessero nuotando nell'acqua e poi ovviamente la suola che riprende i colori di una carpa nera e arancia la qualità è assurda del camoscio di tutto e in più i lacci qua con le scritte e few per beams per asics quindi questa collaborazione tra il brand di scarpe giapponese nato come brand di scarpe da running e due store uno europeo e l'altro asiatico giapponese di toko scarpa venuta assurda questa release friends and family che si potete acquistarla se non sbaglio il giorno 9 sul sito di e few tramite una raffle costano anche a un prezzo anche abbastanza basso per la qualità che offre queste sneakers guardate anche qua qua c'è il logo di beams e qua una patch con una mappa geografica mondiale mappa mondo e sui lati la scritta qua e few e qua beams mamma mia che odore ragazzi buonissima allora vi lascio il link in descrizione per provare a comparle quando escono sul sito di e few tramite una raffle veramente paio pazzesco ora però passiamo al prossimo pezzo tipica scatola di prada cappello di prada con il logo di prada questo classico con la corda marinara prada milano dal 1913 nei colori in questo camo giallo e nero molto bello perfetto per abbinarlo con i pantaloni rosco abbiamo ancora il tag attaccato di prada questa scrittura si apre etichetta fisarmonica manco ci provo dietro qua abbiamo del velcro ed è regolabile e abbiamo anche una banda elastica all'interno veramente una bella coro e per questo cappellino prada qua è tutto una patch con un ricamo per il logo assomiglia a un modello di bondage come cappello però è figo anche proprio per questo veramente figo quindi questo è un altro acquisto che ho fatto e che vi ho mostrato in questo video passiamo a un'altra scatola di sneakers molto curata veramente packaging pazzesco queste sono le sneakers brand formi brand italiano di un mio amico domenico formiglietti che anche lui è stato e continua a essere uno stylist della dark color polo packaging super curato hs sopra la scalda che sta per hot stuff che se il nome della sua ultima collezione della sua prima collezione ma passiamo alle sneakers eccole qua anche queste hanno un odore non male non quanto le carpe ma comunque sia buono è una scarpa con una suola abbastanza ingombrante potremmo dire parecchio rialzata anche in il materiale questo è made in italy scritto anche sotto il materiale eva che prende una gomma non una gomma più performanti più tecnica e anche più leggera e comoda po comoda della gomma del caucciù normale con cui si usa fare le scarpe le suole delle scarpe abbiamo un upper quindi sopra che fatto di capire il book come materiale che lo stesso possiamo dire che ne so delle ad esempio le jordan 4 travis quelle azzurre che ho fatto vedere anch'io e che c'è anche io ecco lo stesso tipico di materiale il notebook si ritrova spesso anche su molte scarpe appunto di jordan nike o adidas il motivo sulle ai lati che prende e caratterizzante che caratterizza queste sneakers di formi e le fiamme in questa colorazione neon la pelle il book il book ne subisce anche un trattenimento ulteriore questo tipo colore neon che quando andai in discoteca nei posti con la luce blu risalta ancora di più figo qua il pull tab con la scritta con logo formi serigrafato e anche il logo qua dietro abbiamo una scarpa quindi dalle dimensioni un po chunky anche se diciamo la per è più lineare e anche più dinamico con questo taglio di trasuola che tutte le fiamme vanno verso l'alto all'interno ci sta una soletta azzurra queste sono entrambe le scarpe ed è il packaging molto curato e anche definito potremmo dire ulteriormente rifinito dal fatto parecchio fiume che all'interno mettendo le mani ci stanno ben tre lasci di riserva che riprendono i colori della sneaker quindi ce n'è uno grigio dettagli giallo fluo uno giallo fluo dettagli grigio un giallo fluo dettagli bianchi e il contrario quindi un bianco che correggio sulla scarpa bianco con i dettagli fluo quindi delle sneakers veramente fighe queste al momento sono sold out sul sito dei formi e venivano un prezzo tutto made in italy a un prezzo di 280 euro qualità ottima anche la sua la sembra molto resistente poi ovviamente le proverò i piedi e vi sarò dire anche come stanno a piede più avanti e ci scatterò una foto quindi questo è l'altro pick up di oggi direi che devo aver fatto vedere le sneaker for me il cappellino di prada e la versione friends and family vi ricordo trovate il link in descrizione per acquistarle il 9 con la reflone con se più la versione fans and family col box di lane e tutto l'incenso il fulare questo e quell'altro delle asics gel light 3 direi che è ora di passare invece al prossimo step quindi adesso spengo la telecamera aspetto il mio mio arrivi e vi introdurgo questo nuovo evento ci sarà qua in italia una città in cui non sono stato prima e anche la se verrete a incontrarmi per questo evento ci possiamo fare roba abbastanza esclusiva veniva per al popo penso ci arriverà anche una puntata di quanto costa il tuo outfit quindi direi che adesso spengo la telecamera per un secondo e aspetto il mio amico per introdurvi l'evento e niente poi come vi avevo pronunciato in cui all'inizio del video in questo video ci sta un ospite speciale adesso porterà dei doni chiamiamoli così ma non si tratta il babbo natale è gesù cristo i beast i christ ovviamente stiamo scherzando si tratta di ale e in arte sgamo lo sgamo ok the game changer come mai sei qui oggi cosa cosa unisce la tua passione per lo streetwear al mondo dei club e discoteche dei disc giochi guarda fede in realtà partito da bari quasi una decina di anni fa comprami il giardino con primi spiccio io sono finito a diventare un malato di air max poi air max è diventato moda e non ho capito come mai ma sono diventato un dj moda detto questo sono arrivato a milano adesso sono il dj comunque faccio tutti i giovedì al volt l'ho suonato con sfera con russian con la dark polma con tanti altri artisti giro in tutta italia tu lo sai perché ci conosciamo già da un po e sarò con te il 17 novembre damaison operative a bari quindi direi che adesso possiamo iniziare a vedere i capi che hai portato e saranno quelli anche che ci saranno al negozio il 17 iniziamo a vederli subito si tratta di alcuni pezzi di vestire non sono mai comparsi nessuno i miei video della marca marce noir marce noir e abbiamo già parlato di questo di questo marchio italo francese in passato però qui sono pezzi nuovi che non ho mai portato sul mio canale perché perché praticamente io e ale staremo il 17 novembre a bari in puglia nella sua città natale precisamente in un negozio che si chiama meson operative meson operative per fare presenziare al pop up esclusivo di marchio ardo e potete comprare questi pezzi che vediamo oggi che ha portato a lei a potignani nel cuore di bari è fondamentale per quello che è la storia esattamente è il posto che doveva esserci e c'è allora direi di iniziare da questo se non è un bel pezzo si tratta di un anorak di marce noir che ne pensi che potrei dai vero culto è il pezzo anche lui cioè c'è una scarata gommata davanti poi molto bello anche il colore questo blu petrolio per olio esatto blu petrolio con questo questa letto lo stilo che contrasto arancio uno piccolo su davanti questa tasca è finita poi tutte le zip termonastrate quindi impermeabili e poi dietro abbiamo un logo più grande sempre in questo colore arancione guardate che bello il contrasto a parte che lo stesso arancione della mia fila di feistasm e questo sarà una delle giacche in mente appunto al pop up cappuccio oddio sai che non mi ricordo mi pare che sta sui 200 euro un prezzo più che onesto secondo me marce noir è uno di quei brand indipendenti che hanno avvento un rapporto quello apprezzo allucinante veramente bella tutti i dettagli con tutte le scritte marce noir qua però non riuscire a vedere e poi anche te comunque addosso c'è un pezzo di marce noir se non volete a vedere se verrà presenti in tutti al pop up uno half zip di questo colore beige pronto per la comunione proprio vai a prendere le ostie e il calice di vino infatti si la comunione la fai tu aspetta però prima facciamo vedere un altro alterniamo tra giacche e pezzi più leggeri c'è questa t-shirt anche questa molto figa mi pare che l'avessi già fatta vedere in un altro video però era di un'altra colorway ci sta questa stampa fatta molto bene c'è un ricamo sopra si con un ricamo attorno poi la particolarità è tipo vedete è fatta al contrario culto e questa è la t-shirt questa costerà la pop up ci sarà in vari colori e questa costerà sui 70 euro se non erro 80 cosa del genere molto bella con un cotone veramente ottimo un borsello questo proprio hai vinto tutte le fiere questa finissima è tipo un borsello cargo c'è stata la tasca un grande notifica dei borselli a tracolla poi la scritta qua gommata fissima in 3d e poi abbiamo due tasche sul davanti come se fossero delle tasche cargo una zip con un'altra più grande con un'altra zip fatto super bene questo vedete che c'è la tracolla con la scritta marshmallow in jacquard bel bel nastrone molto molto bene poi sempre per tenerci il colore blu con la giacca prima ci sta anche questa è il giacca che dicono simile qua giacca proprio abbastanza un po induttita anche perfetta per l'inverno deve dire c'è il cappuccio che si può levare dal ferro figo e poi per entrista davanti non ha loghi ma c'è dietro per chi vuole passare inosservato c'è un bello cazzo dietro per il fatto anche questo ricamato e poi c'è questa parte rente tipica delle impermeabili che permette dare una doppia copertura una pioggia alla vostra schiena che ricopre un poco il logo tagliando veramente un bel pezzo questa mi pare sono le giacche più costose in vendita marci sono anche questa pop up veramente un gran bel pezzo come fit sembra un po lo swing di balenziaga di due stagioni fa poi che altro questa sempre con lo schema i colori che abbiamo visto prima no un arancio e blu molto figa di felipo guarda come risalta bene il logo i cordini che si piocerati un bel dettaglio non si vede spesso se un giro bello pesante il cotone molto figo e poi sullo dietro sulla schiena abbiamo un altro luogo in marcia ma più grande sempre con la stampa fatta molto bene il risalto e gommata se non sbagliarsi infatti anche la tua direttamente aspetta stampa se è vero c'è anche la sua zip la stampa dietro quindi direi sono tutti i presupposti ci saranno anche altri pezzi pantaloni un sacco altra roba al pop up quindi se venite non fate tardi coppa virtuale quindi venire a quando il pop up dei marci noir a me sono un operativo a bari il 17 di novembre poi vi ricorderemo sui nostri instagram account e tra l'altro da dei link in descrizione sia del mio che è quello di ale quindi seguite e troverete tutti gli update per questa release esclusiva a bari e in più può però hai portato un altro pezzo che non è di marshmore che cos'è questo molto elaborato allora questo cos'è faccio vedere a mattina abbiamo un audi direi super decostruita mazze la scritta scasi riesce a vedere ci siamo nella ricamata ricamo ricamo con un filo è un filo si sembra il filo con le maglioni bello e niente ragazzo in realtà nasce in italia poi però sta in giro da una vita e continuano a farlo vedere il brand si chiama di andy sneer lo trovate su instagram come te in clothing con latti di tavolo e ragazzo stai in giro da una vita faceva le robe vaporwave tutta la roba all over print non so se ti ricordi quel periodo dove andavano tutte le pedusi i tensini e i bicchieri di lin e da allora si è sempre il più specializzato chissima ci stanno anche altri colorway e solo questa allora l'ha fatta rossa per il mondo in realtà l'ha fatta pure di qua 3p red c'era un po' di gente dalla scena comunque anche americana anche diplo e poi ne ha fatte 10 così limitate io fortunatamente ho avuto la prima grande di 3p red con la loro canzone wish esattamente e quindi tu c'è anche altre versioni guarda di dopo però di lui prendo un pezzo l'anno molto questo è il pezzo quanto viene questo è un sacco di lavorazione allora guarda mi sa che al pubblico sono 130 bellissimo 130 euro questo è fatto a mano immagina eh certo infatti ne ha fatte 10 t'ho detto pazzesco veramente un pezzaccio non avevo mai visto niente del genere fatto diciamo in maniera indipendente assolutamente una casa di moda veramente un bel pezzo assolutamente grazie per me l'ho portato per mostrarlo a me e ai nostri telespettatori sono merita, sono merita, è abbondante che dire direi che dopo questa apparizione di Hype Christ qua possiamo invitarli alla festa al grande ballo al grande ballo a Bari che spera a Bari il 17 novembre quando non mancate così ci possiamo divertire assieme in più coppare pezzi come questi che sono veramente penso una delle migliori brand sul mercato adesso per il mondo dello streetwear non troppo sputtanato perché è difficile da trovare in giro ma non lo vedo in questo senso ma a livello di store è proprio difficile non trovi solo su Grailet se lo cerchi solo su Grailet è veramente invisibile all'ial distribuzione quindi vi aspettiamo il 17 a Bari Amazon Operative e dopo mi sarà che tu suonisci un serato esatto esatto quindi tutto questo anche per ricordarvi che il 17 novembre a Bari al Kepler Club ci siamo io e Night Skinny e niente faremo un party quindi faremo l'after del pop up alla lente della disco esattamente quindi ci impecchiamo tutti al club anche dopo per festeggiare assieme direi che per questo video è tutto vi lascio in descrizione i due link ai nostri Instagram in più trovate anche il link al negozio di Amazon Operative e in più anche il link a Care Protect che è il sito dove di solito compro i pulisci sneakers per le mie scarpette fantastiche e in più anche il sito di Collect che è dove di solito compro pezzi completamente originali in condizioni DS e deadstock pari al nuovo capi difficili da trovare o scarpe difficili da reperire quindi andate al link di Collect se volete comprare pezzi di questo tipo direi che per oggi è veramente tutto ci siamo ci vediamo a Maison e subito dopo a Views per il Kepler Club Sgamu Barengo grazie a tutti ragazzi e ci vediamo prossimamente ciao 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 ciao